Nel 2026, un nuovo dispositivo per la realtà aumentata, chiamato OGMA, viene venduto in tutto il mondo. Tuttavia nessuno avrebbe potuto immaginare il momento nel quale il gioco smette di essere semplicemente un gioco. Ormai pensano tutti alla realtà aumentata. Nella realtà aumentata creata dal gioco Ordinal Scale, sta sorgendo un nuovo campo di battaglia. Le fredde di oggi siete voi! Dietro la cantante che danza con grazia sul campo di battaglia. E all'interno del più evoluto gioco di realtà aumentata, si cela un'oscura cospirazione. Sword Art Online The Movie, Ordinal Scale, al cinema solo il 13 e il 14 giugno. ん Grazie a tutti.